La sindaca Cecilia Francesi in conferenza stampa questa mattina ha accusato tutti quelli che hanno criticato il suo esecutivo, chiarendo che ha ereditato un ente con un deficit di oltre 23 milioni di euro che ha ridotto a 9 milioni. Nel suo intervento ha ribadito le tante cose fatte, riapertura del cantiere in via del centenario, fondi per opere pubbliche per 1 milione e 600 mila euro, lavori del più Europa quasi ultimati, rifacimento del manto stradale in varie zone di battipaglia, affidamento del PUC a una società, rilancio della fascia costiera, avvio delle consultazioni, PICS. La sindaca poi espone le deleghe assegnate per ognuno degli assessori. Ha tenuto per sé sanità, sicurezza, polizia municipale, servizio civile, rapporti interistituzionali, anci, urbanistica e personale. Al vice sindaco Stefano Romano, contenzioso e legalità. Agli assessori Carolina Vicinanza, ambiente e patrimonio. Al nuovo entrato Davide Bruno, le politiche comunitarie e allo sviluppo. Pietro Cerullo, opere pubbliche e sport. Per Maria Catarozzo, bilancio ed area economico-finanziaria. Per Lucio Pastorino, il commercio e quartieri. Per Rosaria Caracciolo, politiche sociali ed istruzione. Che manca il senso di identità, manca il senso di appartenenza in questo territorio. Perché se noi avessimo il senso di appartenenza in questo territorio, invece di fare lettere anonime, denunce e di campare sul chiacchiericcio, che è proprio il chiacchiericcio da parte di politicanti, insomma, è veramente terribile. Perché? Io vi vorrei sentire parlare una volta tanto di qual è la visione politica che hanno. Qual è la visione che hanno di Battipaglia nella Piana del Sele? Qual è la visione che hanno della fascia costiera? Qual è la visione che hanno della crisi industriale? Qual è la visione che hanno del lavoro in genere? Come vedono Battipaglia? Io tutti questi discorsi, scusatemi, penso che potreste solo che essere d'accordo, io non li ho sentiti. Sono solo chiacchiericcio e cattiveria. Ebbene, io mi rivolgo soprattutto ai battipagliesi, a quelli che hanno il senso di appartenenza, invece di fare così. Quando i cittadini a volte ci vengono e mi fanno prele proposte, io le faccio mie, perché voglio dire, è questo il senso della comunità. E noi ci batteremo per trovare questo senso della comunità. Grazie.